Siamo con Daniele Butignol, direttore Slow Food per Terra Madre 2022, Salone del Gusto Rigener Action. Ciao Daniele. Ciao. Allora io partirei proprio dal claim, dalla parola che in realtà racchiude più di un concetto. Per noi quando parliamo di rigenerazione, l'azione ha un ruolo fondamentale. Il tema di quest'anno vogliamo che sia come trasformare la consapevolezza che passa attraverso la conoscenza in azione quotidiana e quindi in piccoli gesti, piccoli o grandi, ma diciamo piccoli gesti che nel quotidiano possono fare la differenza. Piccoli gesti, azioni quotidiane e consapevolezza, racconto, insomma sono tante le azioni e i gesti che potremo vivere a Terra Madre 2022 qui al Parco d'Ora. Una scelta davvero interessante, molto forte. Parlando di rigenerazione non potevamo che scegliere un luogo iconico per la rigenerazione urbana di Torino. In realtà non c'è solo questo, il Parco è un luogo che si presta in maniera straordinaria a sviluppare eventi di questa natura, sviluppare eventi che affrontano anche queste tematiche. Abbiamo trovato un quartiere splendido dal punto di vista dell'accoglienza, dal punto di vista anche della pazienza perché comunque è un evento che sposta a 22 mila metri quadri di allestimenti, è un evento che impatta. Un evento che impatta, un evento che vuole essere anche una piazza se vogliamo Daniele, un agorà sul tema sempre più importante, sempre più fondamentale delle risorse, del clima, insomma della sostenibilità che non è solo una parola per riempirci la bocca ma è qualcosa con il quale dobbiamo sempre di più avere a che fare e far nostro. Quando parliamo di cibo buono, pulito e giusto parliamo proprio di questo, parliamo dell'importanza della sostenibilità e quindi di costruire le condizioni per avere un cibo sostenibile, parliamo di un cibo che è attento anche alla giustizia sociale e che ovviamente è buono. Quest'ultimo aspetto è fondamentale per noi perché è quello che rappresenta la base della convivialità e della festa. Grazie per essere stato con noi, Daniele Buttignola per Slow Food, Terra Madre. Appuntamento a venerdì quindi, grazie. Ci vediamo a Terra Madre.